La città di Teramo l'anno passato aveva ottenuto il riconoscimento finalmente di Città che Legge, un bando nazionale che ogni due anni viene presentato e al quale le città e quindi i comuni hanno la possibilità di partecipare per veder riconosciuto quello che è il loro ruolo, o meglio il ruolo che riveste la lettura all'interno dell'attività della comunità comunale. Teramo aveva avuto questo riconoscimento, oggi compiamo un ulteriore passo in avanti. Abbiamo approvato il patto per la lettura in giunta comunale e oggi e per i prossimi 15 giorni sarà pubblicato un avviso pubblico, una manifestazione di interesse aperta a quanti vorranno dare alla lettura il valore centrale che deve avere. Diversi studi riconoscono come la lettura fatta soprattutto nelle giovani generazioni dia una maggiore facilità nell'apprendimento. Noi vogliamo che la lettura rappresenti quell'elemento cardine per il rilancio della nostra comunità, un progetto valido da costruire per il prossimo bando futuro, ma farlo prima di tutto attraverso la partecipazione di quelle associazioni e di quelle istituzioni. Penso alla Biblioteca Melchiorre Delfico, penso a Teramo Children, penso all'Ectus, penso a quanti sul territorio si sono sempre spesi per fare della lettura il proprio core business, l'elemento centrale. Ecco, vogliamo con loro costruire questo nuovo progetto, questo nuovo patto per il futuro che oggi presentiamo alla città.